Belin belino Quanto odio Vabbè non importa andiamo avanti poi ne parliamo Allora prima la storia poi livelliamo Anzi Prima la storia poi livelliamo Sì dai Il primo per la peggiore lettura dell'atmosfera del 2017 va Welkin Congratulazioni Welkin Master of Seduction Esatto Welkin Gunther Report Welkin Captain Vabbè Perché non l'ho tradotto Vabbè Welkin Gunther a rapporto Capitano Hey Welkin Oh sei stato chiamato anche tu o Ufaldio Chiedo scusa per aver chiamato voi due in un giorno In cui non eravate di servizio La principessa Cordelia ci ha Ha esteso l'invito al banchetto Tutte e tre Come? Perché noi? Sembra che voi sia stessate riconosciute Per i vostri successi a Vasella E nelle successive più recenti operazioni L'evento sarà tenuto domani al castello Oh non sono molto bravo con le cose formali Se lo sappiamo Sei pazzo? Hai un'idea di quanto raro sia conoscere la principessa? Dicono che la casa Rangrids, gli arciduchi di Gallia Eh discendano dal Varkirur Cosa deve fare quella povera ragazza per fargli capire i segnali? Lanciarle direttamente le mutande in faccia? Eh missa Se fosse così Principessa Cordelia è una Valkyria La principessa Cordelia è una Valkyria Quindi E noi Li parleremo Ah Suppongo di sì Solo non dimenticate di indossare le vostre uniformi Vi incontrerò Se ci vedremo a castello Rangrids domani sera Siete Liberi E così saltano i miei piani di andare a vedere gli uccelli domani La devo tradurre La voglio tradurre così La voglio assolutamente tradurre così apposta Vediamo cosa è successo Come storia Laterale Credo che sia il ricevimento Facciano vedere il ricevimento Ma basta pensare ai uccelli Spero che non mandino tutte ovacche Non proprio così Chiedo scusa per il ritardo Capitano Quasi non ti riconoscevo Sì Capitano Alicia mi ha dato una mano Questa sera Ha dato una mano a vestirti Continuavo a picchiarmi Quando dicevo che Ha continuato a picchiarmi Quando Gli ho detto che non poteva venire con me Mi fa ancora male Da tutte le parti Bene consideralo come esperienza di combattimento Lui vedi com'è figo lui Ci mancano gli occhialini da sole che si toglie E proprio è perfetto Wow Welkin Non ci sono macchie d'erba o qualsiasi cosa Bravo Bravo Faldio C'è anche Anche la In tutti i cazzo di giochi che ho giocato con voi alla domenica Basta Poi vabbè Frank Quest Sì Frank Quest Tanta roba E poi cosa c'era anche Minuteman Era un Era supereroe Classico supereroe Senza macchie Senza paura Che si faceva inchiapettare un po' da chiunque In un modo o nell'altro Quindi Sì Non è Non abbiamo trovato dei personaggi intelligenti Voglio Faldio come personaggio Principale Molto simpatico Faldio Comunque è bel cappello Ma è lo stesso tuo Non mi è mai piaciuto Non mi è piaciuto L'aspetto di queste robe schifose E le ho sempre boicottate Ehi Siete dei figoni Frank è Frank Esatto Frank Quest Ha coperto la guerra Lo sapete Ehm Basta Buongiorno signorini e signora 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 Elet Non è signorina Signora Elet Ehm Ah no Ems Miss E' vero Scusate Miss Elet Ehm Sei qua per fare La copertura del banchetto? Eh già Eh già Apparentemente Un abbasciatore della federazione E' stato invitato Al party Invitato Scusate Mi sa che c'è Un Sento puzza di un'alleanza Tra Gallia e la federazione Ma Grazie Sta Parlando troppo forte Non mi Non riuscivo a tradurmi No scusate Abbasso un po' il volume Perché Se mi parla sopra in inglese Mentre io traduzco in italiano Un disastro Non sono Un traduttore simultaneo Ma neanche mi ci avvicino Ma Ma le Le politiche della Gallia Nazionali della Gallia Sono sempre state Sull'alleanza E cioè Riesse sull'alleanza Ehm E sono sempre State portate Alla neutralità Eh rispetto Alla La visione mondiale Delle cose Penso che Sia stata Principalmente Un'idea del primo ministro Borg Borg Reggente Della principessa Cordelia Ma Borg Come quelli di Star Trek Non lo so Comunque Il reggente Della principessa Cordelia Aiutante La La sua Giovinezza È giovine Ok Come Un modo Per fare Quello che vuole Lui E anche Gli altri nobili Con tutto il rispetto Il principe No la principessa La principessa Non è Abbastanza Morte una mouthpiece Quindi direi È un Giusto Un prestanome Per Le Politiche di Stato Stiamo Per fare Un banchetto E io Ho già perso Il mio abettito È Cosa di entrare Andiamo Ma no Tranquillo Faldio È meglio Combattere una guerra Contra una superpotenza Che da soli Che stringe alleanza Esatto Sono questi qua La gaglia va a fare Ficchi Ficchi con l'alleanza Esattamente Perché Faldio Sarebbe preso Tutte le waifu Prima ancora Che si presentasse È vero Ce l'avrebbe tutte lì Ce l'avrebbe tutte I loro piedi Ai suoi Loro Quanti ce n'è Uno Io dovevo andare Da Sitrate E recuperare l'arma Perché l'arma Era figa Grazie per la vostra presenza In questa occasione Scusate Non mi sono perso Che c'era Una storia Onorevoli Signore e signori Io appaio davanti a voi Oggi Al colmo della mia gioia Per ora Due poteri Se si uniscono Insieme La Gallia E la Federazione Un'alleanza Per costruire Una pace Eterna Per Europa Sappiate L'onore Della cara Gallia In realtà La vera Sua vera libertà È Sotto attacco E Non mi è partito E la principessa Cordelia rimane al trono È una Portatrice Portatrice Della promessa Che nessuna forza Sulla terra Andrà A sconfiggere la Gallia Vero? Sì Mi sembra drogata Non vorrei dire Porto la forza Del sangue Delle Valkyrie Non ho letto Scusate Mi è andato un po' Troppo veloce Comunque applausi Da solo Sono senza parole Il privilegio Di fare la pace Con voi Vostra altezza È uno dei più grandi Onori della mia vita Il più grande Onore della vita E ti chiedo E vi ringrazio Con le vostre Grandi risorse Di ragnite E la vostra Provenzione Strategica Siete diventate Una delle porte Delle parti Fondatrici D'Europa E in questo Tempo di Dramma Sono molto felice Di unire Le mie forze Con voi Per distruggere Le forze Dell'impero Sono contento Che La federazione Vuole conquistare L'Europa Nello stesso modo Dell'impero Mi sembrava Di averlo capito È difficile Accettare Quello che dice Appena Se confronteremo Con una cosa nuova L'impero Sarà Una forza Verrà distrutta Noi dovremo Distruggere Distruggere L'impero E Eliminarlo Da questo mondo In questo modo Potremo unificare L'Europa Sotto il governo Nella nostra Grande bandiera Tutta l'Europa E c'è qualcosa Che non ho mai sentito Prima Stiamo combattendo Questa guerra In modo che Si possa invadere Altre città Altre paesi Assolutamente Voglio soltanto Avere Le nostre case Sicure E le nostre famiglie Sicure Ah ragazze Miei amici Mettiamo fine A tutte queste formalità Alziamo i bicchieri In onore Dell'alleanza Un futuro che ci aspettano Ciao 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 Che voci strane Ciao Dove vai Sto facendo schifo Quello che sto vedendo Questo fa tutto schifo Me ne vado Ciao Faldio 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 Tanto federazione No tanto poi La gallia rimane L'unica nazione Libera E vera Inculata Senza vasellina Esatto E quello che preoccupa Faldio Perché a lui Ha capito tutto Perché lui È figo Lui Lui È figo Lui Lui deve ancora Cosa deve ancora Perché Welkin deve ancora capire Dove Da dove Dove ne viene Vabbè Andiamo avanti Ah Meno male che è finita Dovremmo tornare a casa Velocemente Penso che l'uscita Sia da questa parte Oh Tirato un pattone No no Ha picchiato contro Cordelia Percipesa Cordelia Mi scuso Mi dispiace Così tanto Tutta posta Su altezza Non ho subito danni Non posso Non so come Iniziare a scusarmi Chiedo scusa Per la mia Sgaro Sgaro Per la mia Impacce Impacce Come si dice Non mi viene Ce l'ho eh Miam No mio dio Ogni tanto Ce l'ho Sti blocchi Bebevo Facciamo una figura di merda Sto bevendo Non vi sto traducendo Perché Sto bevendo Oddio Ho rischiato di fare dei danni Con la schiuma Della coca cola Perché non mi viene Mi viene impacciatezza Ma non è italiano Sbadattaggine Ce l'ho Ce l'ho fatta Sbadattaggine Sti che mi carica male La pagina del workshop Da 200 ore caricata Non va Potete aiutarmi Potrebbe essere in 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 caricamento Staranno facendo gli aggiornamenti Cose strane Probabilmente Potrebbe succedere Potrebbe succedere Non si preoccupi Non si preoccupi Spero che facciate Un ritorno sicuro E una buona notte Su altezza Supporta veramente L'alleanza Con la federazione Lieutenant Gunther Sei pazzo? E' pazzo Mi scusi Mi perdoni Capisco Che quello che sto dicendo Sembra un po' Strano Ma vedendoti Stano Vedendola Stasera Mi sembra Che la sua opinione Venisse ignorata Sono giovane Tutte le Motivazioni Tutte le Tutte le idee politiche Sono controllate Dal mio reggente Borg Ho detto il contrario Quindi Scusate Nella traduzione Avevo detto Che il Il reggente È giovane E quindi Prende Usa come scusa No E' lei che è giovane E' il reggente Giustamente Wow Come hai fatto A farti Quell'idea Welkin E' vero La protezione Della gallia E la mia Stirpe Valkyriana La mia Onus Chiedovenia Onus Onus è una parola Che non conosco Parla in maniera Un po' troppo Arcaica E quindi Mi manca Onus Adesso Adesso lo impariamo Adesso lo impariamo Impariamo una nuova parola Onus In italiano Ah Onus però è latino È per quello Non è inglese Non ha niente a che vedere Con l'inglese È latino L'onere Sì E' onere Ok Perfetto Perfetto Buongiorno Tantofa Tra l'altro Percipesa Tra l'altro E' Alicia vestita male Beh sì Bisognerebbe vedere I cappelli Ma La loro protezione Non richiede I miei I miei pensieri Il mio Il mio umore I miei Sentimenti Sto arrivando In un punto In cui non riesco Più a ragionare Spero che finisca E si vada Il combattimento Perché non riesco Più a parlare Penso Cerco solo Ho bisogno solo Di vivere Vivere il rispetto Delle leggi Che sono state Sistemate Fate Create Da quelli Che vengono Che sono venuti Prima di me E vi auguro Ancora Buonanotte Saltezza Mi senti Sono io Il marchio È da solo Ora Questa è la nostra La nostra Chance Ma è marchio Inteso come marchio O inteso come un'altra cosa Mi sembra strano Si è inteso come marchio Il segno Potrebbe essere Un po' più Il segno Conosci il piano Abbiamo una macchina Pronta Una volta Che avrò il segno Sarò lì Si potrebbe essere Obiettivo Si potrebbe essere Bersaglio Ecco Bersaglio Ah ti lascerò qua Buonanotte Welking Buonanotte Capitano Un attimo Ferma Varoth Varoth News Terribile General Damon Qual è il problema Principessa Cordelia È stata rapita Ecco qual era l'obiettivo Rapita Non può essere Sì è stato Il basciatore Della federazione È stata una spia Era una spila È una spia Una spia Sono arrivato al punto Di non ritorno Con le parole Quindi il federazione Ha preso L'ha preso sotto Protezione E la gaglia Anch'essa Tipico Considerando Tutte le idee Sotto banco E l'estorsione Che abbiamo Da cui ci siamo abituati Fino adesso Andiamo Dobbiamo riprenderla Capito Lo contenente Porta qui La tua squadra Immediatamente Sei capitano Oh Un po' di azione Perché se no Mi sminchio il cervello Ok perfetto Ah Fa stescele A livello Di trama Conveniva dire L'impero Modalità sud Italiano Wow Wow A bello Stumpero Noi vediamo Le ragnite Vi aiutiamo A fare un culo Qui all'impero Wow Wow A bello Stumpero Mi piace Dream of the sky Questa non serve A molto Però la leggiamo Così almeno possiamo fare Il combattimento Di due ore Che sarà dopo Non so com'è Devo dire la verità Cos'è Capitolo nove No? Giusto? Capitolo nove Ok E ora una spila Una spila Allora Aspettate Ok Va bene Ehi Casey Cos'è questa cosa? Un aeroplano Un aeroplano Il primo test di volo Succedo durante EW1 Ora la ricerca Sì è andata Tutto il mondo Il primo test di volo C'è stato Durante la La guerra europea Numero uno La prima guerra europea E ora Le ricerche sono state Portate avanti Da tutto il mondo Quindi questo È quello dove ci sono Eh scusate E questo è quello È come sembra È come è fatto È così è come è fatto Oh Voglio Voglio salire sopra Oh Ciao Leon Ehi Sara Ho il giorno libero Cosa ci fai qua? Fammi Indovinare Stai costruendo Te l'aeroplano Isara? Sì Ci sono modi C'è ancora un po' Prima che sia completo Però La costruzione base È fatta Lascielo a te Isara Ho appena Tutto questo Sì? Ti lascio fare Isara E ho imparato Tutto da sola Lavoro In base a documenti Di mio padre Che ha collezionato Prima della sua morte È favoloso Sono così impressionato Quindi Volerai Quando tutto sarà fatto Farai un viaggio Intorno alla gaglia Tipo ad esempio Prima Penso che ci porterò Mio fratello Una volta Quando eravamo giovani Lui e io Facevamo Guardavamo Uccelli Cercavamo Birdwatching Quando l'ha menzionato Spero che Spero che Posso volare Come Fanno loro Questo è il mio obiettivo Cerco di costruire Questo progetto Fare questo progetto Pezzo per dopo Pezzo Nel mio tempo libero Questo è molto carino Isara Posso chiederti un favore? Aiutami a costruire Quest'aeroplano Aiutami Scusami Per favore Fate aiutare da me A costruire Quest'aeroplano Madonna Non ce la faccio più Facciamo sto combattimento Veloce Quindi Scusa Vorrei diventare Un ingegnere del tuo calibro Un giorno Isara Penso che guardarti lavorare Penso che E penso che guardarti lavorare Potrebbe aiutarmi Tantissimo A imparare Per favore Isara Sì è vero Posso aiutarti anch'io Dai 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 Non ti dà fastidio? Assolutamente no Non sembro molto intelligente Ma Faccio un culo così Nella Nella ricerca Nello sviluppo Da un po' Certo Grazie a tutti e due Andiamo Questa è la Sirena L'emergenza Cosa c'è da quest'ora? Cerchiamo di sistemare L'Edelweiss Qualcosa sia È urgente Assolutamente Ti aiuto a preparare Ok Avete scritto un casino Nel frattempo Strano Vero Avete appena detto Hanno superpotenza Che l'aiutate Ma che può comunque Andare a farsi fottere E loro rapiscono La principessa In effetti Tra l'altro No per intrapreso Una guerra contro il mondo Perché mo Devono sconfiggere l'impero Hanno come piccolo obiettivo La federazione È vero Esattamente Ai 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 Sì In effetti Il dominio dell'Europa Era Inteso come alleanza Tra Gallia Che si teneva Per i cazzi suoi E nel frattempo Aiutava la federazione A fare A conquistare Anche l'impero Però adesso Ce l'hanno un po' Da tutte le parti Soprattutto Super il culo Ovviamente L'alleanza È l'unica nazione È un'unica nazione Da quel che si capisce Come credo l'impero La Gallia Sembra un'unica nazione Libera d'Europa La Gallia È più o meno Nella zona Gallia Proprio esattamente Come Asterix E Obelix L'impero Dovrebbe essere Tipo Germania Russia Paese dell'est Mentre federazione Più o meno Da Francia in poi Dovrebbe essere Da Francia in poi E poi tenendo anche Un pezzo di sud E andando a sinistra Tecnicamente Da quello che mi ricordo Sì non ci sono altre C'è Gallia Che è Neutrale A est C'è l'impero E a ovest C'è la federazione Basta Nient'altro Nient'altro Andiamo a livellare Tab select Headquarters Progettori Headquarters Nel frattempo Nel frattempo Poi faccio Una piccolissima Pausa Perché Devo andare A esplettare Le mie funzioni Fisiologiche Perché ho bevuto Tipo 6 litri Di roba Nel frattempo Sì stai zitto Mi stai troppo Sulle Non ti sopporto Ok Posso livellare Poco in realtà Verrebbe da livellare Di scout C'è chi non Posso farlo Ma sì Ah però Dimenticavo Dovevo andare Intanto facciamo così Poi ne parliamo Mi sono dimenticato Questa volta Di andare Perfetto Abbiamo un nuovo potenziale Per i shop troopers Devevo andare Già prima In realtà Ma no Forse l'avevo fatto L'altra volta Devo andare al cimitero Perché potrebbe Darmi della roba Invece di pagare Con l'esperienza Non puoi farti pagare In denaro Gentiluomo Potenziale Potenziale Dovrebbe liberare Potenziale Nascosto In tutti i personaggi Assolutamente Ah E no Niente 10.000 Punta esperienza Va bene Molto bene Spero che i miei ordini Possano assistere Bene Devo prendere questi Per forza E poi Ricerca e sviluppo E poi mi faccio Datemi 30 secondi E poi Sì E poi ricominciamo Fatemi vedere se Qua non c'è niente Non posso fare Non posso Ah si posso Ah posso Interessante Fat power No va bene Non è Un momento Fat power boost Intanto vediamo Quante robe Ho sbloccate Fat power boost Cos'è più utile Il fucile da cecchino Accurasi direi Tutta la vita Tutta la vita Più precisione Ma proprio Tuttissima vita Poi Granate rimangono così Vestito Rimane così Vestito rimane così E qui siamo Di nuovo Al punto di prima C'è qualcosa Per l'Edelweiss Meglio di questo Ah no C'è drag system Vista Precisione Capacità Delle munizioni Ma non Non sono esaltato No ho sospetto Che si possa scegliere Solo un ramo Ma mi ha fatto Me l'ha fatta Modificare Comunque Perché potevo Prenderlo Volendo Volendo Potevo prenderlo Mi dava la possibilità Visto Boh Sembra strano Infatti anche a me Devo dire la verità Però Il range rimane uguale Faccio un po' più di danno Ma se mi ritenessi i soldi Infatti non ha molto senso Scegliere più di un lato Facciamo così Vado un attimo in bagno Velocemente Se avete visto qualcosa Di particolarmente interessante Potete scriverlo adesso Nel frattempo che c'è La curse of the delay E poi torno Vi leggo E andiamo A fare La Quella che credo sia L'ultima missione della giornata Per il D329 Ci vorrà un'oretta Per la prossima missione Quindi Siamo lì Arrivo Grazie 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 Buongiorno Le uniformi non servono Sono già potenziate al massimo Sono già potenziate al massimo Le uniformi Scusate Quindi Mi volete dire Che non c'è veramente Niente di particolarmente utile Le uniformi sono già al massimo Sì Il massimo possibile Anche le blast suit No? Sì Facciamo che ci riteniamo i soldi Lei Bru Andiamo Però poi ci andremo Al castor front Però Per dare così Una retta Per vedere La trama laterale Mi sembra un po' Eccessivo Andiamo Kidnapping of Cordelia Il rapimento Di Cordelia Prendiamo Il potenziamento E rammo Considerato a sé stante Bru Esattamente Abbiamo un'emergenza La principessa Cordelia E' stata rapita Dalla federazione Abbiamo capito I vericoli armati Che portano la principessa Puntano Al porto A sud Dell'area Ma se la capacità Del carro Ma lo si come copertura Più che altro Esatto Per me è tipo Una copertura Cercate di allargare I vostri Di spargere I vostri soldati Per stoppare Il veicolo Il tuo obiettivo Il tuo obiettivo è di Fermare il veicolo E recuperare la principessa Usa Le machine gun E i fucili Per fermare il veicolo Per portarli al punto Nel punto debole Colpirli nel punto debole E portarli a Portare a fermarsi Le armi esplosive Come i cannoni Lance e le granate Sono off limit Perché potrebbero Ammazzare la principessa Quindi lasciar passare Questo a macchina Lasciar passare Fino in quei due posti Vuol dire Permetterli di scappare Non possiamo Permetterli che succeda Abbiamo anche Notizie che la federazione Le forze speciali La federazione Sono state Avvistate In quest'area Quindi proteggeranno Il veicolo Potrebbero portare Vestire Uniformi della gallia Ma in realtà Sono federali Federazionisti Ma chi lo sa Federazione Federa Federali Sì Direi federali Non pensarci due volte Per tirare giù Quei schifosi Maledetti bastardi È notte fonda Quindi non avrai Una grande visuale Sui nemici Fino a una certa distanza Quindi stai all'occhio Ok Ci dobbiamo spargere E dobbiamo usare Scout E Shocktrooper E basta Cosa dite Allora Sono gli shocktrooper Ok Potremmo mettere Innanzitutto Tu chi c'è qua? Welkin Alcar armato Proprio Alisha E Alisha E Non ho idea È Annas Qua l'ho già messo Qua che partiranno Parte da più lontano Ci mandiamo un altro Un altro di voi Ci mandiamo Nancy No Frigia No Aika Cos'è Aika? Questa può essere utile È notturna Assolutamente sì Sono altri notturni in giro No Fearless wheel potrebbe essere utile come cosa Quindi Jane Magari non qua Ma qua Jane Sì Perfetto Lo scato l'ho messo L'ho messo qua Direi Ok Potrei usare il carro armato come un eventuale scudo o muro per la macchina Però devo capire adesso Come Dove è innanzitutto E poi dove devo andare Quindi Deploy Let's go Missione È di recuperare la sua altezza senza danni La fallimento non è un'opzione Possono andare al porto Dobbiamo fermarli qua Squadra 7 Bella lì Squad up boys Let's go Così Facciamo let's go Mi piace let's go Nemici Oh Guarda che è cambiato il loghino Perché abbiamo dei nuovi nemici Dov'è la macchina? Andiamo al porto Di brutto La nave ci sta aspettando Per andare in Gallia Mi dispiace per Le Ristrettezze Di questo Di questa macchina Però Sua altezza Però Sarà A suo agio Abbastanza in fretta Logotenente Probabilmente L'ambasciatore E la principessa Con sé Dentro Quel veicolo Rinforzato Usa le armi da fuoco Per fermarlo Con almeno Danno possibile Per recuperare La principessa Non la perdete Antitank Le lanci Le granate Sono off limit Lo sappiamo Capito Capitano Bene Anche se Non possiamo Attaccare Possiamo Bloccare Grazie Lo abbiamo Capito Possiamo Fermare La sua Strada In strade Cosi strette Non c'è Posto Per passare Vicino Anche Arrarmato Dov'è la macchina? E' Lì Tipo Ci posso Mettere Davanti Quindi Prendo L'Edelweiss Sì Tipo Che mi giro Cosa succede? Ah Vedi quelle luci Del veicolo? Sì Quelle luci Ci dicono Dov'è? L'avventamento È la posizione Fatemi vedere col mouse Dove sono le luci? E' troppo Comunque In ogni caso Ce la fai a girare Ancora un po'? Molto bene Let's go I piri Anch'io Non posso Crederci Vero? Ok Quello di qua Non ci passi Fratello Mi sa Mi sa Mi sa Poi Posso spararci Con Domanda Poi se mai Al massimo Ricominciamo Non ci arrivo Non ci arrivo Va bene Ma far zompare Durissimo una nave In effetti Non è una brutta idea Avrebbe anche senso Avrebbe anche senso Ammetto Oh porca C'è gente Quindi non posso Fare Non posso Fargli il chiusone In poche parole Capisco Oh no Perfetto Ma tu in quanto lanciere Non mi puoi fare un favardo Direi Ciao Salve Oh no Non è una bella idea In effetti Ora che ci penso Oh porca Non ha avuto una grande idea Forse Quindi La macchina è lì Tu sei uno scout Quindi sei qua Per fare Posizionamento Andiamo Let's go boys Tu corri forte forte Ci arrivo da qua Sarà difficile Vero Sono un po' lontano E' quello il problema Devo cominciare a correre Un po' Muovi le chiappe Quanta strada In più può fare Questa donna Quanta strada Al mondo Puoi fare Ok Fantastico Giorno Quindi Se tu avanzi No Ho visto il veicolo Finita la Si Poi come Recupera la Per gps Una volta che hai presa L'hai presa che fai Comincia a sparare Tutti i fiori Che sono una gaglia No Che ti cano Non stacendo Vai Vai Ci hanno bloccato Ah Furbettini Scimmiette furbe Dovevo trovare Un'altra strada Oh porca miseria Se che ho fatto una cagata Questa è un modello Della milizia Va verso di me No Non è una buona idea Sono scoperto Sono un pelo scoperto Aia Oh Oh Merda Alicia ci schianta Alicia è già morta Alicia ci ha già lasciato La ghirba Anche Aika Mi sa No Ha schifato Grande Aika Far passare Far passare Perché In un modo o nell'altro Dovremmo Avvicinarci Al retro Della pc Perché Se no È un problema No Sbaglio Ok Ok Siamo salvi Ho sparato al corpo Catroia Però poi non sono riuscito A fuggire in tempo Oh mamma mia Allora Quindi Di scout servivano a un cazzo Ok E fin qua Ci siamo Serviva un defense boost Più che un damage boost Mi sa qua Io lo lascerei Quasi quasi Far passare Poi lo prendo Forte forte Da dietro No Non è più furbo Dovrebbe essere Estremamente più furbo No C'è un problema Che grave Dobbiamo andare a recuperare Non uno Ma due Ok Vediamo come si sviluppa La situazione Poi E poi vediamo se ricominciare Oppure no Mi sa che dovremo ricominciare Bloccato? State veramente testando La mia pazienza Quel tank è un oggetto Un tank della milizia Della squadra 7 Quelli che hanno partito Scusate al banquetto Solo la nostra fortuna Scusate La nostra fortuna Squadra 7 La squadra 7 Il capitano del banchetto Ok Ora siamo inchiapettati Però Ambassatore L'unità alleate Hanno raggiunto la stazione Che stazione Non serve arrivare alla mia età Per imparare a fare creare dei piani Con delle contromosse Contromonumenti Dannazione Hanno I rinforzi Nelle Scusate Occhio alle posizioni nemiche Quando ci muoviamo Arrivò al pelo Non posso salvare Bene così Tanto credo che Che faremo Però Giusto per curiosità Si possiamo evitare Grazie Un aggiornamento Quindi forse è meglio Mettere in fondo I Forse è meglio Mettere in fondo I car armati Eh si Gli scout Mettere davanti In shop trooper E comunque Non attaccare Perché c'è È stato Particolarmente utile Alla bisogna C'è Sono 15 km Per colpire Quindi Non è molto furbo Non credo sia estremamente furbo Provo a fare ancora una cosa Fatemi controllare Siamo vicino a un pelo Continuo a non averlo Continuo a non averlo All'occhio Vabbè Intanto poi Ricominciamo Voglio vedere una cosa Sì perché altro Non ho fatto niente Almeno da vicino Esatto Non credo L'idea è comunque Allora Ok Rifacciamo 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 Allora No Ehm Mi arrendo C'è il pulsante Arrenditi Non ho salvato Quello Il problema Facciamo che mando Welkin A farsi uccidere Facciamo che ci provo Dai Proviamoci Ormai Non ha modo Di avvicinarsi Senza essere Crivellato 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 Crivellati Veniamo Crivellati Questo non c'è dubbio Però Basta Per favore Ordine Ordine E' pronto a difenderti Pronto a difenderti Vai a farti Crivellare di colpi Lo so Troppa gente Troppa gente Aspettate Perché non riesco ad essere dritto Guardi Forse si ammazzano A vicenda Allora Pronti Non ho ucciso Quello dietro Ia deg Uno Roger E' La strategia Comunque va bene Per eventuale Ricarica Facciamo molto poco Però gli facciamo qualcosa E mi sa che comunque è quello che dobbiamo fare Non è molto diverso da quello che dobbiamo Da quello che dovremo fare Questa avanza Tornata indietro Sto per spaccare La faccia a Jane Capisco Ok Tanto così almeno vediamo che cosa fanno i vari personaggi Come si muovono Come si muove Il Il carro armato Come si muove Ok Buongiorno Eh c'hai gente Lo so che sei stupita Però Deci comunque a metterla Chi giù di sotto Bella lì Ok Perfetto E adesso arrivano altri Devo comunque Bloccare il Il carro armato Sarà comunque il carro armato Per andare giù Però Se io adesso Faccio ancora una cosa Tipo Ordine Uno Difesa E Va bene Grazie Ma gli metto Anche Ordine Due Una granata Non la posso fare Dicono che non è il caso di farlo Assolutamente Perché uccide Il personaggio che è qua dentro Go 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 Vediamo anche a che distanza è pericoloso E a che distanza no Non mi ha Mi ha anche cagato Ok Vedo che L'attacco è stato Vitale Poserei dire Vitale E se però vado a vicinermi ancora un po' No no Da dietro non mi cagano Bene Buono a sapersi Quindi se io gli vado dietro Con tutti Sto qua dietro con tutti Non faccio pipiri pipiri Tutti insieme Appassionatamente Basta saperlo Mi sembra che il Damage boost Non abbia Dato What? Cosa mi ha sparato in realtà? Non molto ben capito in realtà Vabbè Ciao god La svita della pc è scesa È scesa anche notevolmente Tutto sommato Però Però Vedo che si siete presi tantissimo Tra tutte e due Molto bene Bravissimi Ehm Il video della pc è scesa Eh Ma intanto in questo combattimento Non credo che Mi Vincerò Voglio solo vedere il comportamento Generale Totale globo Come figlio della natura Qua non c'è tanta natura Ah perché Figlio della natura Non c'è tanta natura No Continuo frantumare Uno Ho visto il cecchino Sono consapevole Quanto posso fargli scendere Non voglio nessuna vita Non voglio nessuna vita Ah ho delle granate Posso anche provare a lanciargli una granata Così solo per curiosità Se finisce tipo la missione oppure no Allora vediamo un po' cosa succede Sono curioso Ahem Si direi che le granate non si possono lanciare Beh meno male Almeno abbiamo finito la missione Possiamo ricominciarla da capo Ottimo Entrare Ciò vuol dire che Gli scout li mettiamo in fondo Ops il precipice è morta No ma non credo che Prima o dopo Credo proprio che la granata Non sia fatta Basta Un colpo Qualsiasi Quindi Ah però mi sono dimenticato Devo fare redeployment Eh no Non lo posso più fare Ah porca miseria Volevo fare redeployment Vabbè Ci sistemeremo in altra maniera Quindi la facciamo passare Li perdiamo Li facciamo perdere un turno Poi lo facciamo passare E facciamo proprio chiusone in generale Totale e globale Quindi Quindi Lui passa di qua Noi portiamo L'Edelweiss Sì sì Ma perché una persona non è abbastanza Ma per un carro armato Per una macchina C'è la roba Che è pericolosa C'è il carburante Scoppia tutto Allora Andiamo qua al bordo Mi facciamo chiusone Con questo Poi Chiusone con te Tu passi di qua E scendi giù di qua No? Se prendo Aika Torna indietro Ma tu vieni giù di qua Ma tu vieni giù di qua Ma tu vieni giù di qua Non puoi venire giù di qua Vai giù di lì Me la giro da sta parte Tanto ci vuole del tempo Quindi questa strada La sfruttiamo Tu passi di qua Abbiamo detto Ti faccio chiusone Get ready to die Imps No Sorella Non ci sono imperiali Non sono gli imperiali Dovemmo passare di qua Facciamo passare tutti di qua Non dovevo usare la liscia In realtà Vabbè Non è importante Andiamo Non posso avere un viso Brava gambette veloci Anche l'altro Prima diceva Crash the empire Non si sono aggiornati Cioè Diciamo che E' talmente stata Una cosa veloce Che non sono Non gli è stata Non è stato comunicato Il nemico Della missione Quindi passi di lì Io ti faccio Il chiusone di nuovo Buongiorno Se venite tutte e due Addosso a me Bella idea Bella Oh cazzo Ho fatto una fava Non mi avete fatto Una fava Quanti cazzo siete Per alcuni problemi Volete colpirli No No Però vi siete messi Bene bene In fila In modo che vi possa Crivellare di colpi Oh cazzo Buon D Questo non è buono Però Non è buono Perché Per andare a bloccare Lì in fondo Gli devo mostrare Il culo Per mostrare Il culo Vabbè Tentiamo Sì Ditemi Capisco Poter fare Una mortagliata Qua in mezzo Però L'amortagliata Non so se mi uccide Tutta la madonna Quindi forse È meglio fare così Non ho ucciso L'altro Oh Bellino Allora Andiamo Preghiamoci nelle palle Potrei tipo girarmi Se ci riesco Se ci riesco Posso girare Vi mostro il culo È pericolosissima Sta cosa Però No Ok Sto fatto una cosa Molto pericolosa Però Direte Posso battermi nella ciorna Girarmi dall'altra parte Tanto Ci vuole ancora un po' Prima che girino Quindi tipo così Slu Buondì Guardi Tiro una cannonata Micidiale Mi abbiamo perso Di nuovo Però Si attiro Una mortagliata La dietro Ci arrivo Se i miei calcoli Sono giusti Dovrebbe essere Lì dietro Sa che ho fatto Cordove Se temo di sì Girato così Così almeno Non siamo nel rischio Ma devo smitragliargli Il culo Al carro È quello il problema Poi Comincio ad andare Anche tu Ok In the current phase Direi di sì Siamo di nuovo bloccati Questi cazzi Oddio Cosa faremo Vieni 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 fratello Ma perché non gli fai niente È una smitragliattina Veramente Triste È veramente schifo Una smitragliata Non ci fa gracchè Stai qua Ancora mezz'oretta Poi muore quello Sì Non è un grasso Un grasso problema Finito il turno I lasciatori Gli alleati Hanno raggiunto la stazione Va bene Sì lo sappiamo Allora Cominceranno ad avanzare Noi col carro armato Abbiamo fatto bene o male Il nostro lavoro Tecnicamente Ora dobbiamo portare Jane e gli altri Ling 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 Lora Benvenuto Ti stimo professionalmente Ti stimo professionalmente Ti stimo professionalmente Andiamo in là Ti diamo un po' di spazio Possiamo arrivare fin qua Possiamo anche arrivare fin qua Bene Uno Poi Quasi 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 Non c'è Vai Centrati Via 1 Spara nerf Non spara proiettilante Dei proiettili nerf con un chiodo ficcato dentro Farebbe anche meglio Anzi Credo di aver appena creato un'arma Vero Proiettili nerf con un chiodo Devono fare male Atenzione Alla squadra Rirvi ora Ok Cosa mi manca? Ancora uno? Finire che è la missione più facile Tecnicamente Dovrebbe essere abbastanza facilotta In realtà Una missione del cazzo Difficilissima Ok Ok Devo fare il chiusone La tecnica è quella È il chiusone con Con la gente Però Continua Che lo sa Con te ci arrivo dopo Prego Va di Va di lei Speriamo che Sia una cosa furba Ok Ha girato l'angolo Non ha ancora girato l'angolo in realtà Pi 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 Tanto sono fuori Buonasera a tutti Come sta andando? Abbiamo battuto una missione Abbastanza agevolmente E questa Adesso è un po' Un problema Devo ammettere Peccato Buongiorno Oh Rosy Che schiva Tanta roba Mamma mia Rosy Bene Ora Però Non ha raggiunto il punto che volevo Oh Mike NoPlay è sempre iscritto Grazie mille Grazie mille Qua in chat Grazie mille Se qualcuno ha Vessi Può anche Gettarmelo Tra l'altro Ne approfitto Per dirlo E in più Se volete vedere qualcosa Non ho neanche parlato Oggi Se volete avere anche qualcosa in più In cambio C'è anche Fatela Non volendo Ci sono Delle grosse Delle grosse ricompense In cambio Se Vi iscrivete al mio Patreon Tante cose Tanti contenuti Adesso domani Dovrebbe arrivare Almeno un'altra cosa Grazie mille Comunque Mike NoPlay Grazie mille Dovevo aspettare Che mi tornava Il primo Ah ok Perché eri tipo Eri tipo iscritta A qualcos'altro Grazie mille Grazie mille Allora Cuore in chat Comunque E' stato già facendo Grazie mille Se una te l'avrei fatta prima Non ti preoccupare Non ti preoccupare Non mi Non mi Non mi offendo Certo Se qualcuno Trovi Qualcuno Più divertente di me Facile Tra l'altro Abbastanza facile Ma vabbè Cucche grazie infinite Davvero Allora Il problema E' che la macchina E' qua Non ha affatto Non siamo ancora pronti Per il chiusone In realtà Quindi io Quasi quasi Visto che non siamo pronti Per il chiusone Comincerei a portare Un pochino di Tipo Nancy Tipo Monkley Perché c'è una squadra Lunga E' Byze Satinas E con Hannes Cominciamo a fare Un po' di strada Camminatina Camminatina numero uno E camminatina numero due Adesso Uno scout riesce ad Alivarli dietro Ma il problema E' che c'è gente Anche quello Un grosso problema Si potrei mandarci Alisha Però c'è gente Qua Lo so Hai una granata Perché non la usi Potrebbe essere Un'idea Proprio un po' Da Amica no Non è In between E' già E' già pronto In realtà In realtà E' già lì Vabbè Andiamoci Ho visto Lo so Lo so Porca puttana Però Fanculo 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 Ah ma vengono dal carro Ok Che palle C'è veramente È di È fatta di Di cristallo Quella donna Allora Andiamo Vediamo se Aica è più potente Di Jane No forse Jane è meglio Jane è meglio Dovevo fare una cosa migliore In realtà Ho fatto una scemenza Sì Non metto In fronte E bloccare la ruota Tanto tieremo un po' Quattro Non lasciate Un po' Vardo Per un bene Andiamo Ehm Oh Oh Solo Ho fruitato il telefono mi carichiamo la live No Come No 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 questo è un ordine grazie a se prepari per proteggere proviamo proviamo Just try to stop me In quei 20-25 minuti dovrei riuscire a... Alla fine l'idea del chiusone non è stata una... ...da buona idea In realtà bastava uno Bastava che uno solo facesse il chiusone Eh... C'è... C'è... Mi sono attaccati al culo Attaccati al culo E al massimo adesso tento con una... ...con una scout Non sta facendo niente Chiamarezza Allora arriva gente Vabbè che più di altro il problema è che noi abbiamo... Pochissimi turni Adesso ne abbiamo uno ancora in meno Visto che Alicia è morta però Uh... Uh... Va bene Prego... Ok... Non lo vedevo impegnato E ora mi muovono anche quello Va bene D'accordo Non capisco Tecnica del chiusone Tecnica del chiusone credo che sia quella giusta però non... Capisco come... Effettuarla la tecnica del chiusone E... Mandiamoci Alta a vedere se facciamo più male con lei o più male con uno shop trooper Vediamo Vediamo I see one! I see one! Salve Salve Ma... Non credo che... Ma l'emoticon... Si l'emoticon è in caricamento Ci vorranno quei sette otto mesi Perchè... Venga provata Però per il resto... Si L'emoticon è in caricamento Ho visto il cecchino Sono consapevole Ho promesso così vanno proprio in accoppiata violenta Bene Ora ho capito la tecnica del chiusone Perfetto Perfetto Non serve andare qua in cima Non serve andare qua in cima Ok La tecnica del chiusone è quella giusta però Tipo così Tipo una roccia E metto il cappuccio Ovviamente 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 Oh snap Vuoi dire che in un modo o nell'altro Nella zozzeria più totale la portiamo a casa? Non mi vuoi proprio dire che... Non mi vuoi proprio dire che... Non mi vuoi proprio dire che... No... Diciamo che ci ha messo tipo 3 settimane... No scusate... Due settimane Zetto a provarla Io poi non l'ho fatto subito Quindi anche si Forse serve anche... Cioè... Bisogna riuscire ad arrivarci con 3 Ora non so quanto il cecchino possa essere... Eh... Un fattore In questa situazione Con i nemici attaccati al culo Però... Sì Pupupupu E via Che fuggazza Non gli abbiamo fatto quasi niente Spero che il cecchino rimanga lì per i fatti suoi Credo di sì Pupupupupupupu Erosi fa... Bvalissimo, però... Non uccide mai Checchino Boom Però... Però Va bene D'accordo Se puoi cambia l'obiettivo e mi prende l'altra No, prende Heika Uhhhh Schivato! Grande Aika Eppatum Ma guarda come è morto bene Grande Aika Grande Aika Grandissima Che colpaccio E' arrivata gente lì in mezzo Sono consapevole Non morirà In compenso tu si Quasi quasi ci faccio andare Anche Rosie lì in mezzo Ci arriverà Non credo Non credo ma Ci può provare Tanto facciamoci arrivare Aika E Jane Poi ne parliamo Non ho visto a che punto è Eccolo lì Se sto a fianco Fa un culo Ciao Non mi vedi più Ok Forse Non serve Non mi fermerai Ti cazzi Ops Leone sarebbe fiero di te Intanto non vedo perché Ah ecco perché la chat di YouTube è bloccata Dicevo perché lo sto leggendo Quello che state scrivendo su YouTube Ma non sto leggendolo sulla chat di YouTube Perché la chat di YouTube è bloccata Però vi leggo Comunque Dall'altra chat Non vi preoccupate Dovrei Infatti servirebbe anche Rosie Però mi sa che Se non ci arriva Mi perdo l'occasione Di fare molto male All'apc Quindi Continuiamo così C'è l'aiuto Di Aika Che ha una voce Fassidiosissima Dovrebbe non riuscire ad arrivare in fondo In un turno E quindi dovremmo finirlo così Non ce la facciamo in questo turno a farlo fuori Però ce la facciamo facilmente nel prossimo Ammesso che Quel cecchino Non ci fa Quello scout Non ci faccia male Forse Aika ci lascia le penne Oh merda Mi sono dimenticato Abbiamo perso Ops Ma Alicia non è morta però Out Si è ritirata Va bene così Ma è morta È a posto E allora lasciamola lì Cazzone Lasciate YouTube Io ho toccato perché Ah Dai 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 Eh mi sa che stavolta Perdiamo uno tra Jane No Arriva in fondo Si muove due volte Bastardo Abbiamo perso Oh mio dio Addio Tutte due? No una sola Non è finita in realtà Pensavo fosse finita Ah uccidila Bravo E allora Eh no Si è mosso Ha fatto più turni È arrivato È arrivato Vero Non è arrivata Non è arrivato Non è arrivato Attenzione È una situazione Un po' pelosa Ammetto Grazie per averlo fatto Grazie per averlo fatto Di non incontrare Tu sei un cadavere Tu sei un cadavere Cazzo è finita Oh Ancora lì Io vedo uno Un'altra Quanti turni ho? Quattro Mi sa che non ce la faccio Per un niente Vuoi dirmi che non ce la faccio Per un niente? No dai Ti prego Non ce la faccio Non ce la faccio Per un mezzo turno Forse Non ce la facciamo Per mezzo turno Prima di partire Può successire Una tattica Suggeriscimi Suggeriscimi Ma se io mi piazzo davanti Sono qua Ci ho provato Tanto è finita Comunque brava C'è il problema Che era Non posso più fare Redeploy Dammit Dammit È finita Ok Quindi Lui arriva in fondo Però Briefing Posso sì Invece Abbiamo un'emergenza Nella Cioè il car armato Come avete visto Tutto sommato Ha senso Lasciarlo lì E poi fare Mi serve Forse Gli scout più lontani Che cose più vicine Quindi avere tipo Rosy qua Hannes qua No Chi è più figo È più figa Jane Jane Uno scout qui O forse Eh ma perché si muovono poco È quello il problema Mentre Gli altri si muovono tanto Mi sono più tentato Di avere gente Come Vise Qua sopra È uno scout Al massimo Qui Alicia qui E un altro scout Qua Aika che è stata Un'ottima 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 Aiuto Quindi così Dovremmo essere in condizioni Di poter incominciare Col chiusone E In questo modo Dovremmo essere tipo Che Posiziona le unità No Di poi Prego Eh quindi La fare mi serve Avere certo parte Un'ora di fare No vabbè Ma no ma Mi è fatta Perché ci mancava veramente Un colpo Uno Un colpo Ci mancava Era soltanto Questione Di Pianificare un po' meglio Il chiusone Perché il chiusone C'era Soltanto che mi era riuscito male Con la partenza Del fatto che Tipo ci hanno Sporgugliato Distrutto malissimo La donna Ecco Allora Silenzio Silenzio Si va in cena Fai tutti gli scout In fondo Shocktrooper Dal modo da chiudere Da connessione Quando gli scout Implodono L'FC Infatti La faccio Scusate Quindi Devo riuscire ad arrivare Più Possibile Dovrebbe esserci Ci sono due Shocktrooper di più Rispetto a prima Se non sbaglio Uno Shocktrooper di più Allora Quindi Si lo so Dicevo Perché non si muove Dopo che carambi 4 Arrivano da dietro E arrivano Raggiunti Dello Shocktrooper Allora Intanto Porca troia Gira Merda Ho perso troppe cose Non so se riesco ad arrivare In fondo Spero Basta che Poggi Il culo Sullo spigolo Penso Spero Spero di esserci riuscito Perché se no È un casino Speriamo Se no Rifacciamo Non importa Quindi alla fine Sto shocktrooper Sto shocktrooper Lo mettiamo qua E lo lasciamo qua No Deve girare intorno Quindi questo Deve andare qui Lascio truppe Truppe Marescià Sera Mario Poi Anzi Alicia Mi raggiungi così Tanto tu ci arrivi Quindi così Tu mi arrivi Forte forte In C4 Più o meno D4 Così così E voi cominciate ad arrivare Con Jane Mentre Ika Se le viene Fiotte Se le sta qua Pronta A check in air Tra l'altro C'è tipo L'info Lai in cima Dovrebbe esserci Le cose Ma se la mando In A3 Se la mando In A3 Mi arrivano Tipo 20 La chiusione Col carro Non lo posso fare Non ce la farò mai Non potrò mai farlo Perché È Troppo Troppo Spesa Costa 2 di movimento Quindi non ce la fai A fare il chiusione E mi va benissimo Che lui arrivi Forte Con i Con gli scout E si prenda Mi tiri anche 2 o 3 bastonate Anche se questo è un lancere Minchia però Uccidene uno Farei tipo Tanto Questa è poco Ma sicuro Mi fate tantissimo Sono proprio Preoccupatissimo Da quello che mi state Per facendo Per facendo Per fare E Tiro giù Questo Scout Fatto un E ne ho tirati giù 2 Comunque Stai bene Go 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 Enemio Lo so Devo usare Due movimenti Un solo Perché non riesco Ad arrivare Lì Ma anche Perché Mi devo girare Di culo Perché lancere Rompecats Detto questo Io volevo girare Ok grazie Di fianco Dall'altra parte Cos'almeno Non mostro Le chiappe E siamo a posto Ottimo Per di più Non credo di fare Niente Però Meggio che niente Ma È stato un po' Alla cieca Però I love the Allora Tu Quindi Fra un po' Arrivi qua Quindi vuol dire Che Vice Deve aspettare Un pelo Prima di partire Per il chiusore Però potremmo Cominciare a fargli Arrivare Ma cinque È troppo lontana Poi È pericoloso A me è pericolosissimo Faire sta mossa Però Come lo dite voi C'è gente Vuol dire che non c'è nessuno Coperta qui Ho tempo per muovere Gli altri Shack Troopers Devo dire La verità Credo di avere abbastanza Tempo per farlo Tipo due turni Quindi Dite che la lascio girare Lascio Alicia Lì un attimo Vabbè Bella che gli tira Una Bombardella Così Plim Per una bicellata Spara un po' Più spesso Dai Lo so Lo so che abbiamo raggiunto la stazione Siamo consapevoli Bene Ciao C'è tutto il parere in B4 Mi sa che non ci arriva nel tempo Quindi Penso che farò Innanzitutto Muoverò Jane E Rosie Tipo così Tipo così Tipo così Ah brutta idea Ah ho sbagliato tutto Ah merda Ah credevo di riuscire ad arrivare in fondo Vabbè comunque ancora un turno ce l'ho per spostarmelo Quindi con Rosie sarebbe il caso di arrivare al primo tentativo Alla prima idea Ok Ci abbiamo tempo dopo per arrivare dove volevo arrivare Ehm Ok però dove volevo arrivare ci sta Ci poteva arrivare Come on baby It's you and me here Don't come out of cover until you have to E' noto che devo andare contro il trooper Eh sì Perché Però davanti ci devo arrivare per forza Perché sennò Quasi quasi Mi tengo questi due turni va Perché no Almeno più turni dopo Visto che più o meno siamo tutti in posizione Ok Shuffle shuffle Vedete che si muove Preoccupazione non ce n'è La preoccupazione che ho è Non ho più una Rosie Che era lì in mezzo a spentrare gente che dava fastidio In realtà Questo è un po' un problema Tutta sta gente era stata distrutta da Rosie E ora non c'è più Rosie A coprire in quella posizione Però siamo più vicini al chiudone Che male Quindi cominciamo già Mi turno ok C'è una radicia Sperando di non incontrare nessuno Ciao Cominciamo ad appoggiare E guarda un po' visto Sì Lo abbiamo un po' visto Quasi qua ti faccio Vieni un po' nel mezzo al cazzo Quindi di conseguenza sarebbe il caso Di andare a fare Uccidere quello là Li faccio un favone Vero? Non li faccio greche C'è Ah non li faccio greche Neanche lui eh Neanche lui però Comunque ci avviciniamo Ci arrivo là Ah non mi prendono la base operativa Se si avvicina a Weiss Li fraggatori Ce la faranno mai Non ce la faranno mai Io tengo Weiss go apposta Guarda ti dirò Anzi Sì Va bene così Ma se io finissi la fase di nuovo Anzi Perchè ho paura che mi inciocchi Dovrebbe durare anche per il turno difensivo Sbaglio? Spero di no Facciamo ancora un turno di pattoni Speriamo che arrivi Sta facendo molto eh Go Signore il suono dice Defense booster Curse of the delay Direi che sì Direi proprio di sì E via Minchia Defense booster sta cercare Direi che il defense booster Non c'è Uno ne è abbastanza Miner fire Parliamo Stronano Stronano per pover Molto gentile Devo Devo Oh no Devo difendere un attimo Alicia Perchè non mi sembra In condizioni Non è che stia male Macchina è qua La posso mettere in copertura Mica tanto C'ho gente dietro Sì 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 Io sparo da qua Ho comunque preso Mi copro un attimo Dovrebbe bastare il turno Se mi giro di rave Non credo che cambi la situazione Però Posso stare così Aspettare ancora un turno Caricare ancora tutti questi cp E poi Smontargli Tutto quello che posso Vice però dovrebbe avvicinarsi Il pelo E' un po' pericoloso Ciao Argon Sta andando Che questa missione E' più complicata Di quanto si pensi Sale Faccio un metro Eh Però E' andata E' andata Ok Prossimo turno Parte il chiusone It's chiusone time Direi che questo E' il turno Della chiusone Il turno di salvare Anche si Hai ragione Signor Nessuno serve a caso Di salvare Forse Salve Spero vivamente Non mi vengano A conquistare La No no Vengono a prendermi Semplicemente Tu Piano piano Mi stai Smimbrando Però Credo che a un certo punto Tu non mi caghi più Non posso usare le granate Scoppia tutto Yeah It's time It's chiusone time Non facciamo cagate Ok Sistema Salva Let me save Non serve Se ho un po' di culo Non serve Allora Salisce Andiamo Che cazzo è finito Ok Sparito Completamente Arrivo Pippiri Pippiri Andiamo E Via E uno Ah Ci ho mandato Negli altri Poi Arriva anche tu Jane Spero che Non faccia Un giro troppo largo E si rischi Speriamo in bene Basta La distanza E Sì Basta 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 Dio 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 Pietta Ci arrivo giusto Sì c'è Nostaggia Esatto Poi Per sicurezza ma non c'è Aika Cos'almeno sono un po' più tranquillo So che Aika ci può arrivare tranquillamente Porca puttana se poi sbaglio all'angolo Anche magari Wow Un attimo si è bloccato a tutto Mi sono spaventatissimo C'è il C'è il C'è il friendly fire Minchia c'è il friendly fire C'è il friendly fire Porca puttana Mi si è accucciata Aika di colpo Mamma mia La paura Ok non c'è il friendly fire Comunque Eh vai Mi sa che Rose è lontana Temo che Rose sia lontana Un po' più a sinistra Oh porca troia non ci arriva Sì c'è il friendly fire Comunque Nel dubbio Cazzo Hai fatto male Alicia Chiedo scusa Non era mia intenzione End current action Direi di sì Però un attimo Però un secondo Dove sei? Vice Pochino qua Ok Meglio va Così è meglio Cavacca Vabbè Andiamo a sparare ancora un po' Fattoom Mamma mia Dura poco questa missione adesso Ce n'è anche bisogno Guarda Non c'è nemmeno bisogno Basta andare con Vice Non c'è nemmeno bisogno di Neanche bisogno di Chiusone il computer Mission accomplished Invece ha un dodgeable shot Che ha un veicolo fermo Non è propriamente il top È finita Il potere del chiusone Operazione completa Cerchiamo di portare via Sua altezza Tra l'altro Oh ma guarda quanti soldi Forca miseria Non ce ne facciamo una faba Tra l'altro di tutti questi soldi Perché siamo Non ci abbiamo Siamo poco più indietro Della Dell'ordine Della potenza Sua altezza E tu da posto? Di nuovo Non so Non ho riportato danni Sì sì Finiamo anche la trama Di sto capitolo Tranquillo Tranquilli Tranquilli tutti Oh Bene Sare principessa Non è propriamente Sempre una figata Bisogna portare Sulle proprie spalle Un intero paese Rosy Cerca di Darti Una calmata Un po' di creanza Rosy Stai parlando Dalla principessa Di Gallia No no Ha ragione Come più Sion Era Porca miseria L'abbiamo visto L'altra volta Non mi ricordo più Un vuoto Voto 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 Sì Dovrebbe essere Discendente Però C'aveva Una cosa Era una cosa Un po' più Vabbè Comunque Consideriamolo Come discendente Va bene Il mio Il mio destino È di vivere E morire Per il bene Della Gallia Sei sicuro Che non sia Solo una scusa La sua scusa Oh Welkin Mamma mia Oh Oh Sei sicuro Che non sia Solo una scusa Solo la tua scusa Sua altezza La sua scusa In questo caso Cioè Se considera Il suo status quo Come destino Può fuggire Dalla responsabilità Di cambiarlo Mamma mia Welkin Cosa è successo Ma che tu li Welkin Cerca di essere Un po' rispettoso Porca miseria Welkin Con questo movimento Cioè Praticamente adesso Lo rispetto Uno Lo rispetto Come era prima Prima lo rispettavo Zero Adesso lo rispetto Uno Come ha guadagnato Un punto stima Ecco Ogni pecco Però adesso Comincia a parlare Di ogni essere vivente Vabbè Ogni essere vivente In questo mondo Fatica a sopravvivere E Far Passare Le conoscenze E la vita Alle nuove generazioni Tutti gli istinti E tutta l'intelligenza L'istinto animale E l'intelligenza Che hanno Per sopravvivere E un giorno Di più Questa Voglia di vivere Questa Questa Come si dice Istinto Istinto di sopravvivenza Potente È la parte Bella Della natura Mi sa che Non l'hai capito È questo È che Ha servito Devo dire Un cubo di lancia Esplosiva L'abbiamo fatto Rissavire Sì forse sì Si è preso Un lancia Si è preso Tipo 5 lancia Esplosive Nei denti Quindi forse Magari Ha fatto tipo I neuroni Ha fatto Sinapsi Si è svegliato Ha visto il corno In copricamento Vuoi che è salito Il due rello Per i cervi E nulla Quindi così Guarda come parlerebbe Un cinghiale ferito Su altezza Potrebbe essere Dice Si sarà ben discendente Degli Valkyror Però ha Un peso Sulle spalle Le vecchie tradizioni Le vecchie maniere Possono essere Importanti Da mantenere Ma spero Che non Butterà tutto Per colpa Di queste cose È abbastanza Working Stai calmo Finisci Si potrebbe essere Però quello che dici E credo di essere Scappata Dalle mie responsabilità Sappendolo Consapevolmente Consapevolmente Usiamo i termini giusti In italiano Sicuramente È Il mio ruolo Considerare La mia vita Come Come discendente Di un Valkyriano Su altezza Sono Invidioso Delle vostre abilità Di parlare Di parlare Così liberamente Così francamente Ma Penso che dovrò Cercare di considerare Il mio ruolo Da sola Grazie per le tue parole Lugotenente Non c'è di che Assolutamente Non c'è di che Ah Wow Anche una prinsessa Si sveglia e dice Ciao quando è vuoto Ah ecco È senza Non ho sentito Il rumore di stomaco Forse ho tenuto Il volume un po' troppo basso Non so se l'avete sentito voi Anche lo stomaco Nella principessa Si sveglia E dice Ciao quando è vuoto E lo stomaco Brontolante È una parte È una parte Intelligente Del istinto animale Che tutti gli umani Hanno Alicia Abbiamo qualcosa Da mangiare? Certo Ho portato I rotoli di Cannella Sì Che ho cucinato Questa mattina Prego Si serva Su altezza Nom 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 Grazie mille Non ho mai mangiato Un pane così prima È piacere È gustoso Questa agriable È abbastanza piacevole Ah bene Sono contenta Bene Portiamo Su altezza Capitale Ormai Questi dovrebbero essere Neanche luogotennente Dovrebbero essere Tipo Padre eterno E la sua Signora Tipo Cioè Gli hanno salvato Hanno salvato le chiappe Al pianeta Ormai E sono Siamo al capitolo 9 Di 18 Tra l'altro Tra l'altro Tra parentesi Vorrei farvi notare Così Sappiate Ah dio mio C'ha fame Che vuol dire È come Come Kim Che non mangia Non pisce E non caga Esatto È come Kim Jong-un La generalista Infinita Della patria suprema Dell'impero gallico Turbo Anche Ci aggiungerei Ci aggiungerei Anche Turbo Minchia power Ci potrebbe stare Ma forse Dirlo davanti Alla regina Oh Addirittura Una cerimonia Premiamo I nostri soggetti Date una spiglina A forma di scarafaggio A Welkin Sarebbe tanto felice Quindi la principessa Cordero È ritornata Al sicuro Grazie agli sforzi Della milizia Dello squadrone 7 Il suo leader Welkin Gunther È stato celebrato Come recuperatore Del sovrano Della nazione E gli è stato dato La medaglia d'onore Gagliana Abbiamo detto È stata data Lugotenente Welkin Gunther Un passo avanti Sì Ha fatto un'ammazza Scusate Lo starnutire Ok Ok Ce l'abbiamo fatta Signore Per l'eccellenza Nel valore Nel sacrificio Sei stato Insignito Di questo onore Sua altezza Prego Le dia La medaglia La medaglia Al giovane luogotenente Molto felice Molto Molta gioia Congratulazione Luogotenente Gunther Grazie a lei Sua altezza Che bello palazzo Un grande eco Tra l'altro Anche se non ho ancora Trovato una risposta La sua domanda Mi turba ancora Devo capire la mia responsabilità Per Per Ah ma c'è appunto Sì Sì Ok Capire la mia responsabilità Come sovrano E come Singola vita umana Sua altezza Sua altezza In questo accento Ho capisco La mia tradizione Certo che parlassi un po' meno arcaico Sarebbe Sarebbe più carino Però Come lo posso dire La tradizione Si sta separando Dal mio volere Direi Ho aggiunto Ho aggiunto Ho fatto No Ho fatto aggiungere Al cuoco Le rotole Di Di cannella E Alla mia La mia colazione Giornaliera Alicia sarebbe felice Di sentirlo Luogotenente Gunther Cerca di darti La calmata Scusi Mi scusi Le mie Mi accerti Le mie scuse Con questo La cerimonia La cerimonia è finita Altezza Vuole Graziare Vuole darci La gioia Di una sua parola Ora fa Ah scusate Sono i Cinnamon Roll Buoni Luogotenente Gunther Spero Che la sua Mi viene loyalty In inglese Che palle Lealtà Ce l'ho Non mi veniva In inglese Sinonimo In inglese Non mi veniva In italiano Incredibile Lealtà Alla gaglia Sarà Sarà Così Per sempre Sì Principessa Basta È finito Ah Luogotenente Gunther Chiedo scusa Ma c'è qualcos'altro Che non le ho detto Sono incinta Oh Oh Ha fatto un'altra Ha fatto un'altra Ha fatto un'altra Ha fatto un'altra vittima Come fa È un idiota Del genere Scusate Chiedo scusa Cerca di essere Cerca di stare attento Bene Grazie L'ultimo capitolo E poi ci salutiamo Non posso ancora girare Poi si incazza anche Alicia Oh D'altronde Eh Welking Che fredda Con Cordelia Eh Già Toc Toc Chi è? Il lupo mangia frutta Welking Sto entrando No sono nuda Ah no scusa Sono nudi Sì sì è aperto Oh Guarda Sembra uno scharafaggio Ora me lo Se lo dice Chiudo Se lo dice chiudo Giuro Giuro Oh non male eh Ti sei fatto un nome stavolta È stata fortuna Pura fortuna che fossi lì Tu te ne sei andato Però Fabio Hai perso un punto stima Se ne sei andato E quindi non hai potuto salvare la situazione Io ho un punto stima Parto da nove Scendo a otto Lui invece ha guadagnato da zero Arrivato a uno Stai attento per ti star raggiungendo Hai visto i titoli Che non dicono niente sul rapimento Ah reporter dice Quella reporter Mi ha detto che Borg Ha cercato di Fare in modo di Censurare Quello che è successo Perché censurarlo Se ci fossero state Se ci fosse saputo Quello che è successo Le relazioni tra Gaglia E la federazione Sarebbero Avrebbero sofferto Ora C'abbiamo da fare con l'impero Non ci possiamo permettere Una guerra In due fronti Quindi abbiamo coperto Abbiamo coperto tutto Scommetto che Faranno in modo Di agire Come se Nulla fosse accaduto Ciao Michelangelo Wow Welkin Questo mi dà un po' fastidio E' abbastanza ovvio E' schifosamente ovvio Che Quanto la situazione Della Gaglia Sia In pericolo Sia traballando In questo caso Termine letterale Potrebbe ci starci In questo caso So che La storia La storia del mondo E' un interminabile Pesce mangia pesce Pesce grande Mangia pesce piccolo In italiano C'è anche un altro termine Ma non mi ricordo Come si chiama Comunque avete capito E Sappiamo che Sappiamo tutte e due Che il debole Si inchina Al Si inginocchia Al più forte La storia E la natura Una nazione minore Come la nostra E' un bersaglio facile Anche Nonostante La qualità Della nostra armata Welkin Nessuna offesa Ma spero Che la natura Sia sbagliata Se sbagli In questo caso Non so cosa dirti Faldi Non lo so Non sa mai che cosa dire La liberazione di Fusen Però Questa la andremo a vedere La prossima puntata E fa E fa